allora prima domanda intanto tu sei un esperto di marketing e questo è in dubbio volevo chiederti qual è la tua definizione di social commerce e qual è secondo te la situazione per quanto riguarda il social commerce in Italia e in Europa piuttosto che negli Stati Uniti? dunque la definizione di social commerce io la vedo come il rientrare delle classiche relazioni all'interno di un commercio elettronico che negli anni passati era stato eccessivamente modellato sulla base di un concetto di self service come se online tutto quello che è umano, empatico, relativo alle relazioni tra persone per le quali l'acquisto è sicuramente uno dei fattori di socializzazione più importanti che dovesse essere per forza online messo da parte quindi io intendo come social commerce tutte quelle dinamiche aggregative che esistono già nel commercio tradizionale nel cercare un regalo per i propri amici nel mettersi assieme per fare un regalo tutti assieme per chiedere ai propri contatti se un prodotto è buono o no tutte cose che non c'erano nella prima fase dell'e-commerce e quindi social commerce secondo me è nient'altro che come sarà l'e-commerce del futuro è molto simile a com'era il commercio diciamo reale nel passato e anche nel presente quindi si parla fondamentalmente di conversazione tra gli intenti quindi tra gli acquirenti se vogliamo sì, si parla di conversazione, di scambio di informazioni tra gli acquirenti anche perché spesso gli acquirenti conoscono molto meglio la propria lingua uno dei fattori più importanti sociali all'interno degli shop online è quello delle recensioni e vediamo che spesso le recensioni implicano che la descrizione del prodotto e delle sue funzioni, dei suoi vantaggi a chi è indicato e a chi non è indicato viene svolto molto meglio dagli stessi utenti che dalle sterili descrizioni a volte assettiche che gli store online mettono a fianco alla foto del prodotto guarda, io leggo il tuo notissimo e seguitissimo blog tra i tuoi post ho visto che molto spesso, per esempio, ho seguito una serie che era quella del marketing insegnato dai negozianti esatto a parte l'aspetto divertente dei vari cartelli piuttosto che delle varie indicazioni che erano segnalate sembra che ci sia una specie di frattura nella comprensione del cliente sia online che offline insomma qual è la tua opinione ad riguardo? sì, il marketing insegnato ai negozianti è nato un po' per caso e poi si è sviluppato perché molta gente continua a mandarmi queste testimonianze appunto come dici tu di frattura come dire io sono il cliente perché mi devi trattare male credo che ogni negoziante a volte abbia anche a che fare con giustamente con clienti anche loro poco disponibili a venire l'incontro quindi sia anche un problema bilaterale ma credo che anche però ogni negoziante debba vale sia online che offline debba trovare il proprio pubblico debba trovare e selezionare anche un proprio pubblico in qualche modo poi da non doversi difendere dai propri clienti e iniziare una relazione di fiducia e dare fiducia a quei clienti che se lo meritano davvero dopo avere in qualche modo selezionato sì, quello che si vede in quella serie è effettivamente a volte la voracità del commerciante di intendere il cliente che entra dentro insomma è solo come un portafoglio e lasciare, il cliente deve lasciare la sua umanità il fatto di essere una persona deve lasciarlo fuori dal negozio e entrare solo con la sua parte economica in realtà vediamo che negozi che funzionano meglio e quelli in cui c'è più movimento hanno delle forti componenti di socializzazione a cui le persone piace stare dentro e non sono per l'atto di comprare ma proprio perché rappresentano anche dei punti di aggregazione o comunque dei punti di intrattenimento per quanto riguarda la cultura del cliente l'Italia rispetto agli Stati Uniti è molto differente anche per quelli che il cliente ritiene che siano i suoi diritti quando entra in un negozio quando interagisce con qualcuno che vende negli Stati Uniti è molto sentito questo, almeno per quello che io ne so credi che anche questo possa avere un'influenza nel determinare questo rapporto io vedo in Italia per quanto riguarda la rete e non solo le aziende ritengono spesso che sia quasi un reato anche il solo contestare oppure criticare un prodotto quasi che le persone non abbiano libertà di parola su quello che possono dire e manifestare le proprie opinioni quindi si parte già da un modello mentale piuttosto arretrato e molto lontano da quello del dialogo con le persone e con i consumatori non so sicuramente sicuramente l'Italia dal punto di vista del commercio ho l'impressione che abbia ancora notevoli passi e notevole cose da imparare dal modello dal modello anglosassone soprattutto di customer care insomma noi notiamo a volte compriamo qualcosa o scarichiamo un software o qualunque cosa da un sito americano anche il più piccolo il meno famoso mandi una mail e dopo un'ora giorno e notte ti arriva la risposta spesso anche grandi storie italiane mandi una mail e nemmeno ti rispondono oppure ti rispondono dopo qualche giorno ecco la cura del cliente è fondamentale il cliente attuale è un cliente fortemente connesso e non parlo solo di noi che viviamo su web parlo anche delle persone normali che ci mettono due minuti a scriverlo sulla propria pagina di Facebook o da un'altra parte insomma quindi la rete deve andare pari passo con il miglioramento del un primo luogo del customer care insomma senti ovviamente a questo punto si arriva a parlare di social CRM che va al di là della semplice mail e dei possibili implementazioni anche su altri tipi di social media sì io ho letto un post interessante che diceva che social CRM non esiste in realtà credo che social CRM non sia solo usare un altro mezzo per rispondere al cliente